La Teramo Ambiente fa causa al Comune di Teramo con i soldi dei cittadini. Questa è la denuncia che oggi arriva dal Movimento 5 Stelle di Teramo. Esatto, la situazione ha veramente dell'assurdo in quanto la Teramo Ambiente con i soldi delle consulenze che noi paghiamo all'interno della tassa sui rifiuti ha fatto causa al Comune di Teramo per vedersi riconosciuti ulteriori 1,3 milioni di euro che dovranno essere pagati in caso di vittoria sempre dagli stessi cittadini teramani. Quindi ovviamente oltre al danno la beffa e questo è un problema veramente grave in quanto si aprono due scenari. Da una parte o il Consiglio Comunale ha adottato un atto in piena violazione di legge e quindi tutti i consiglieri che hanno votato a favore se ne assumeranno la responsabilità oppure il Sindaco Brucchi non ha la capacità né il potere né l'autorità di bloccare un tale sperpero di denaro pubblico e ovviamente non ha il potere di influire minimamente all'interno della team. Intanto ad oggi comunque i cittadini teramani hanno già pagato le bollette relative al 2016? Ovviamente i cittadini hanno già pagato più della metà dell'importo e se questo 1,3 milioni dovesse venire accolto ci sarà ovviamente un ricalcolo ma la cosa assurda è che la Tremambiente ha chiesto la sospensiva di questi atti e vedremo come andrà a finire perché si potrebbero aprire degli scenari veramente gravi e pesanti. iniziamo a capire